Se sono qua con mio padre, una persona genuina, mazzo di carte, sapete, uso carte regolarissime, ok, mazzo di carte regolarissime, tu stesso le vedi in maniera sistematica tutte carte regolari, io non toccherò più le carte, mescolò le carte, proviamo a vedere se esiste un effetto che non è mai stato sfigato e non è mai stato fatto vedere in webcam o in camera che sia, ok, mescola le carte, sto mescolando, quanto vuoi tu? Sì, sì, mescola, 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 ancora, mescola, ancora, mescola, mescola, ok, posto, metti giù, ragazzi non posso mai sapere niente di questo mazzo, neanche tu, giusto? Sì, 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 certo, nominami una carta da gioco, pensala, pensala e nominala, vai, 7 di picche, 7 di picche, ora mi serve un numero tra 1 e 52 che tu avrai solo nella mente e io non ti voglio influenzare niente, ok? Quello che vuoi tu. Vai. 8, dai. 8? Come mai 8 c'è un motivo particolare? No. Se l'ottava carta fosse il 7 di picche. Sarebbe un miracolo. Tu stesso. Tu stesso. Una alla volta lentamente. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Questa è l'ottava carta. 7 di picche. No. Non ci posso fare. 7 di picche. Impossibile. 7 di picche. È impossibile. Tutto regolare. Pazzesco. Signori e signori. Pazzesco. Ma ci poi vi è prestato il santo gra. Iscrivetevi e commentate ragazzi. Pazzesco. Da rimanere allibiti proprio. È una cosa incredibile.